Musica Buonasera e benvenuti al nostro Tg dalle Vallate. Iniziamo con il Valdarno, cambio ai vertici della ASP di Montevarchi, il sindaco Chiasai Martini ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione della Casa di Riposo. Nuova governance per la Casa di Riposo di Montevarchi, con il secondo mandato del sindaco Silvia Chiasai Martini, è stato rinnovato il consiglio di amministrazione dell'ASP con la nomina di tre componenti avvenuta a seguito di avviso pubblico di manifestazione di interesse rappresentato dal dottor Fulvio Bernardoni, l'avvocato Vania Cristiana Torsini e Leopoldo Pompili. L'amministrazione comunale è soddisfatta per il riscontro avuto dalla selezione che ha portato alla scelta del nuovo organo amministrativo, composto da professionalità di spessore e adeguate al ruolo che andranno a rivestire. In particolare il dottor Fulvio Bernardoni ricoprirà la carica dei presidenti del nuovo CDA, dando seguito ad un indirizzo più volte emerso, anche in riferimento all'emergenza epidemiologica ancora in corso, di inserire nell'esecutivo una figura dotata di specifiche competenze socio-sanitarie. L'amministrazione comunale augura dunque un buon lavoro al nuovo CDA che avrà il compito di proseguire il cammino intrapreso di miglioramento dei servizi per rispondere in modo puntuale e qualificato alle esigenze degli anziani, della comunità e delle loro famiglie. Il sindaco Chiasai Martini ringrazia sentitamente la Presidente uscente Luisa Granelli e i consiglieri Mara Elisetti e Leonardo Arcidiacono per l'enorme lavoro svolto e per aver guidato la casa di riposo attraverso la più grave crisi sanitaria che l'azienda del Comune abbia mai attraversato dalla sua Costituzione. Arricchire la propria vita attraverso un'esperienza formativa come il servizio civile. In questi giorni la misericordia di Castiglion Fiorentino chiama a raccolta cinque persone che abbiano davvero voglia di farla. Se hai dai 18 ai 28 anni e sei alla ricerca di un'occupazione che ti lasci molto tempo libero e ti garantisca un assegno mensile di oltre 400 euro, la misericordia di Castiglion Fiorentino offre cinque posti di servizio civile della durata di un anno. Con questo attacco accattivante la nota della misericordia di Castiglion Fiorentino ricorda a tutti coloro che vogliano usufruire di questa opportunità che ci sono cinque posti per l'appunto per il servizio civile. Che cosa garantisce questo tipo di esperienza? Intanto una retribuzione, una valutazione dell'esperienza nei concorsi pubblici che può valere come titolo di preferenza, un riconoscimento e una valorizzazione delle competenze acquisite, almeno 80 ore di formazione gratuita, il riconoscimento del servizio ai fini del trattamento previdenziale, i crediti formativi e molto altro. Per iscrizioni si può cliccare sul link nel sito della misericordia oppure contattare la sede di Castiglion Fiorentino ai numeri telefonici che si trovano online sugli elenchi oppure recarsi in segreteria. Si tratta dicono i responsabili di una bella esperienza, un'esperienza che uno si porta dentro ed un arricchimento soprattutto in questi tempi in cui fare servizio civile significa davvero aggiungere eticamente qualcosa alla propria vita. Uno degli strumenti utilizzati per valorizzare determinate zone è il turismo lento e in particolare, e in questo caso, si parla di Sansepolcro e Valtiberina, un valore aggiunto per valorizzare il comprensorio. Ci troviamo a Sansepolcro in periferia ai piedi della cosiddetta collina di Piero. Tutti noi conosciamo l'importanza del turismo, un turismo lento. Stefano Farinelli, geologo e insegnante, ha fatto di questa passione uno strumento importante per la valorizzazione del territorio. Bene, questa passione mi nasce da, come dire, da molto lontano dalle scuole superiori. Ho frequentato l'Istituto Fanfani Camaiti e quindi lì l'agricoltura e l'ambiente erano molto, molto, come dire, portati avanti all'interno del corso di studi. Poi, proseguendo con il corso di studi in geotecnologie, ho approfondito tutti quegli aspetti che poi mi interessavano fin da piccolo e da qui ho anche unito lo sport. Negli ultimi tempi ho iniziato a realizzare dei brevi video reportage tematici a piedi, quindi con il trekking, ma anche in bicicletta. Per quanto riguarda i video reportage a piedi, tratto degli argomenti a microscala, una finestra sul cortile ho iniziato nel periodo in cui ancora c'era una sorta di lockdown e quindi le persone potevano almeno vedere attraverso i video cosa avevano fuori casa e purtroppo non potevano andarle a visitare da soli. Bene, questi video reportage tematici li ho realizzati andando a piedi nelle nostre colline. Poi in estate abbiamo deciso, siamo uno staff di amici, di creare un nuovo format, in quel caso in bicicletta, chiamato Borghi e Bici, in cui andiamo a visitare i borghi, perlomeno inizialmente toscani. I prodotti che stiamo realizzando in questo periodo, quindi sia la divulgazione ambientale a piedi, quindi con il trekking, potete trovarlo all'interno dei nostri canali social, quindi nel canale YouTube Stefano Farinelli e anche all'interno delle pagine Facebook, mentre per quanto riguarda il progetto cicloturistico Borghi e Bici potete trovarlo all'interno dei nostri social e del canale YouTube Borghi e Bici. Il servizio civile è un'opportunità per i giovani, ci riallacciamo al servizio visto anche prima, anche se la paura di questo momento pandemico frena un po' le adesioni, ne parla in questo caso la misericordia di Subbiano. Il 26 gennaio scade la possibilità di partecipare al servizio civile e quindi i giovani che vorranno aderire al servizio civile presso la misericordia di Subbiano dovranno proporre la loro domanda prima del 26 gennaio. Cosa significa partecipare proprio al servizio civile? Il servizio civile in misericordia è un'esperienza straordinaria, un'esperienza lavorativa diversa assolutamente da tutte le altre. I ragazzi possono fare la loro domanda online entro il 26 gennaio, devono avere dai 18 ai 28 anni, hanno una retribuzione, più che altro direi un rimborso spese di 444 Euro mensili, hanno un impegno che spesso va a seconda del progetto con il quale vengono abbinati, cioè possono avere delle ore di lavoro concentrate in alcuni giorni della settimana oppure possono essere distribuiti settimanalmente, questo dipende dal tipo di progetto al quale vengono destinati. C'è la paura di questo Covid naturalmente anche per chi partecipa a questi servizi? Io ritengo che con delle cautelle e delle attenzioni il problema non esiste perché comunque i servizi vengono svolti in sicurezza, nella massima sicurezza e igiene, quindi per quanto riguarda problematiche di contagi e roba del genere credo che tutti possono stare tranquilli. Bene, tutto per questa edizione del nostro Tg dai comprensori, grazie quindi della cortese attenzione, buona visione e buon ascolto con i nostri programmi.